Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A Palazzo Meizlik, qui di fianco, e che rappresenta per noi un momento veramente importante, quello di capire quello che è l'importanza che è stata quella di Aquileia all'interno del dialogo tra i popoli del Mediterraneo, dell'Oriente e di tutta Europa. E' quello che è stato come luogo, porta e crocevia. È una parola che si utilizza tanto, ma ci si riflette poco. Tramite queste azioni e tramite anche questa serata, dove ascolteremo dalle parole di Suad, che ho avuto il piacere di conoscere oggi ed è veramente una splendida persona. E sicuramente ve ne accorgerete anche voi nel suo modo di raccontare proprio quello che è da un lato un dramma, ma è un'esperienza anche di vita. Ed è quindi un modo di arrivare ai cuori delle persone con delle parole che tante volte noi ascoltiamo da lontano e che non siamo in grado di interpretare. Stasera ne avremo l'opportunità, io per questo la ringrazio e per questo veramente le chiedo un grande applauso da parte di tutto il pubblico e la invito anche sul palco per un saluto ufficiale. Io vi lascio a Suad, buona serata. Grazie, intanto benvenuta ad Aquileia. So che sei stata in giro tutto il giorno ad Aquileia ad ammirare questa terra che appartiene anche alla tua storia. Io presento Suad Amiri, la voce più autorevole della Palestina, è un architetto importante, una scrittrice che ha iniziato la sua carriera con un libro tradotto in 20 lingue che è appunto Sarone, mia suocera che poi ha vinto anche il premio Brasilia nel 2004. Ma Suad Amiri è tante cose, è nata a Damasco, da genitori palestinesi, ora vive tra Ramallah, New York e Lumbria, è una docente universitaria con una carriera, un corso suonoro negli States, è fondatrice a Ramallah del Centro per la Conservazione Architettonica di cui parleremo perché è importante che anche Aquileia ascolti questo racconto. Si è scoperta scrittrice appunto nel 2004, ha spubblicato dei libri molto famosi ormai dedicati alla sua storia complessa per Feltrinelli e stasera siamo a raccontare il suo ultimo lavoro per Mondadori. Io vorrei ricordare perché è importante che è stato anche membro della delegazione palestinese i colloqui di pace tra Palestina e Israele che si sono svolti tra il 91 e il 93 a Washington DC e io l'ho conosciuta personalmente e con orgoglio lo racconto nel 2014 perché ha vinto il premio Nonino Residaur e da quest'anno è entrata nella giuria del premio Nonino insieme a Giorgio Agamben e merita un applauso perché è un'eccellenza del territorio, il premio e anche il cosmopolitismo intelligente dei giurati. Cara Suad, ci sediamo ora? Certo Prego Tu sei tante cose, sei tante cose e sei tanti posti Facciamo questo sì, dimmi Come ti presento? Come ti presento? Sei nata a Damasco? Tua mamma è nata a Damasco? Hai visto in tanti territori Qual è il tuo racconto? Qual è la città che ti racconta di più e come inizia questo tuo racconto di vita? Sì sì, grazie Elena Grazie 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 Nonino Sono qui Sono contenta di rividerlo Grazie Erika E tutte le persone che hanno fatto questa bellissima serata Davvero sono contenta Vorrei dirvi che io amo Italia Amo gli italiani Ma la mia lingua italiana ancora non è molto raffinata E questa è la seconda volta che io decido di parlare in italiano Scusate se manca qualche parola Se fa l'errore Ma l'importanza è che parliamo dal cuore per altri cuori Ok Normalmente io non rispondo subito alle domande Elena L'ho capito Ma neanche io faccio le domande Sì 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 No vorrei dire qualcosa personale Sono nata in Damasco Io sempre dico questo Che sono nata in Damasco Perché la mia mamma era seriana Il mio papà era da Jaffa E sempre io ho vissuto tra queste due città Damasco una città bellissima Anche la mamma La casa del mio nonno La città vecchia in Damasco Era un bel palazzo Sono cresciuta con la bellezza di Damasco Ma più importante è questo Il mio padre da Jaffa Siamo diventati profughi nell'anno 48 Quando Israele era creato La mia famiglia era come tutti Il 90% del palestinese Erano casciati da loro case La mia famiglia era una di queste Sono nata dopo il 48 E così sono cresciuta in Giordania In Amman Ma per me Damasco era la città L'ancoro della mia vita Perché Palestina, Jaffa Il mio padre da Jaffa Abbiamo perso Jaffa E il libro parliamo da questo oggi Ma per me Palestina era una cosa triste Sempre sentito il mio padre parlare Dalla perdita Dalla Jaffa Dalla Jaffa Giardino Dalla famiglia Dalla quartiere Tutto questo Per me Palestina era troppo pesante E per questo per me Damasco era la luce della mia vita Era la città che ha dato molto per me Amore, ha dato assicurazione, tutto questo E quando il 2011 Cominciata la guerra In Damasco Ho pensato Oddio Sono diventata profughi Due volte Una come palestinese E l'altra come siriana Ma io anche Passo un po' di tempo in New York Un po' di tempo in Italia In Umbria Ho visto come gli italiani Anche non tutti Ma in Europa In America Loro pensano Che i profughi Non hanno cultura Non hanno paese Non hanno musica Non hanno storia Non hanno niente E per me era importante Che io racconto la storia di Damasco Era un homage Omaggio Per gli siriani Che sono diventati profughi In Europa In tutto il mondo Grazie Davvero Perché quando pensiamo Dal profughi Non pensiamo Che loro hanno lasciato il paese Hanno lasciato il quartiere Nessuno lascia la loro casa senza bomba Senza Pensiamo da Afghanistan oggi E per me Questa è importante La vita tra Damasco e Jaffa E fermo qui Perché Dobbiamo E io continuo dicendo C'è sempre un momento importante Per uno scrittore E nel caso di Suad Il momento importante Quando si decide Che c'è una storia difficile da raccontare Che è la storia che viene raccontata In questo libro Questo libro Mi emoziona perché alla fine siamo in presenza E quindi ha fatto un passaggio Perché nel 2020 è stato presentato E poi è successo quello che è successo E quindi sembra quasi una serata normale questa Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea Siamo a Jaffa appunto Siamo nel 47 Poi arriverà il 48 E questo è un omaggio dedicato alla storia più difficile dei palestinesi Ed è la storia che Suad dedica alla vita di suo padre appunto Che ha perso la casa È un libro dove tutti sono orfani È un libro che ha tanti registri È un libro importante perché ha sempre quel senso di humor Che nei libri precedenti Se conoscete la sua scrittura Ha il suo intelligente senso Così della vita brillante nella fatica di una tragedia Però qui c'è la volontà di una love story E di due ragazzi adolescenti Giovani Che si amano E inizia così questo libro Con due ragazzi che si amano Per poi entrare nella grande storia Allora io ti chiedo Perché era arrivato questo momento Di raccontare questa storia E soprattutto come ti è accaduta Perché mi è piaciuto tanto per me che scrivo E il fatto che lei abbia Lo dice proprio È una storia vera È una storia completamente vera Sapete che a volte Magari gli scrittori Si dimenticano di dire Che è una storia completamente vera È una storia completamente vera Da dove nasce? Da un taxi mi sembra Ok Come ha detto prima Il papà era da Jaffa E io ho cresciuto in Giordania Pensando di Palestina Anche devo immaginare Palestina da distanza Perché siamo il palestinese Fuori di Palestina Non possiamo arrivare in Palestina Io ricordo una storia Era molto 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 difficile per me Perché nell'anno 67 Un anno dopo le guerre Quando Israele ha occupato tutta la Palestina Noi siamo in Giordania Il mio padre ha avuto questo permesso Dall'israeliani di arrivare a Jaffa Dopo 20 anni Perché hanno lasciato la casa in 48 E lui è tornato in 68 Da solo E lui è andato a Jaffa È arrivato subito a casa sua È bossato la porta È aperta la porta una israeliana Una donna E lui dice Il mio nome è Muhammad Questa è la mia casa Io vorrei visitare la mia casa E lui dice Anche C'è una foto da mia mamma Sul muro Posso entrare a visitare la casa E posso prendere questa foto L'israeliana era molto paura Perché saputo che Questo era il proprietario palestinese E Chiude la porta E lei dice Se tu non vai via subito Io chiedo la polizia Ma lui ha detto Perché chiede la polizia Sono qui solo per vedere la mia casa Lei ha detto No vai via E lui è rimasto così Da fronte alla sua casa Non sa che cosa fa E alla fine è tornata in Giordania In Amman Io ricordo Ho avuto forse 16 anni Era la prima volta che io vedo il mio papà piange E per me era troppo troppo difficile questo momento E dopo di che sono arrivata in Palestina In 1981 Per insegnare architettura a Birzeit University Ma sai la distanza tra Ramallah fino a Jaffa Mezz'oretta di macchina Solo 30 kg Dall'81 fino a 2018 Io ho deciso di non arrivare a casa E non fare questa visita Ma non ho saputo che la casa è ancora lì Ma che succede con la casa Alla fine ho deciso Vai a Jaffa Va a Jaffa E fare questa visita Sono andata con il mio marito Cercando, cercando, cercando la casa Non ho trovato la casa Non so che hanno distrutto Perché gli israeliani hanno distrutto molti Case lì E sono tornata a Ramallah con un taxi E sono stata molto triste E molto depresta Parlando con il mio marito Ha detto Salim Non sono pronta per questa storia E il tassista Sta ascoltando E lui dice Ma scusami Perché non vieni A incontrare Shams? Ha detto chi è Shams? Lui ha detto la mia zia E lui ha cominciato a dirmi La storia di Shams Shams in arabo significa Soli E lei Sono arrivata il giorno dopo Lei era 84 anni Era solare Ma la sua vita era tragica Davvero Io non ho saputo Che nell'anno 40 Succede qualcosa come questo Ma lei era Molto compasce Molto gentile Molto aperta Ma dice qualcosa Molto difficile Io ho cominciato a piangere Solo sentire Che succede In 48 E quanto perdita Una perdita Dopo l'altro Ma ha trovato questa donna Con sorriso bella Con pace bella Con pace dentro E ha detto Mamma mia Dobbiamo imparare Da questa donna Come facciamo la vita Perché la sua vita Era molto molto dura Ma invece Era una donna Molto carissima E questa è cominciata la storia E da Dalla parte femminile Si arriva alla parte maschile E appunto Si arriva al protagonista Di questa storia Che è Subi E Subi come arriva Dentro la storia Sì sì Ok Sono seduta con Shams Con questa donna E lei racconta 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 Come era innamorata Con questo ragazzo Lui era 15 anni E lei era 13 anni Ma io ho chiesto Dove è questo Lei ha cominciato a dirmi Che cosa succede Con la loro storia Ma dove è questo Subi Lei ha detto Subi è 93 anni ora E vive in un pro Un campo profugo In Giordania Ho deciso di andare lì Per capire Che succede In 48 Ma vorrei dirti qualcosa Elena Anche io Che sono palestinese Profuga La mia famiglia Ha perduto tutto Ma la mia famiglia Mai 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 Hanno raccontato La storia Triste per noi Forse la gente Quando sono under shock Quando ci sono Incontrano una vita dura Così Per proteggere La loro bambini Non dicono niente Io non ho saputo Molte cose Come hanno perso La loro casa E per me Devo dirti Perché il mio papà Era nato 1906 Subi Era la Età di mio padre E ha avuto questa relazione Con la città Molto bella Con Jaffa Perché Jaffa Era il più grande città In Palestina Era il più ricca Città in Palestina Ma il più importante Il nome di Jaffa Era Il madre Della stranieri Ma io ho chiesto Perché dicono Il madre Della stranieri Perché era una città Aperta per tutti I stranieri Che arrivano Per il lavoro Perché aveva il mare Sì E arrivano da Giordania Da Siria E anche c'erano comunità Ebrei Italiani Greci Cristiani Muslimani Arabi Armeniani E Era un Esempio Come viviamo Tutti Insieme E per me Era una Una cosa Molto bella Perché Subhi Ha avuto questo Amore Per la sua città E lui Era un meccanico Era un meccanico Ma un meccanico Con grande voglia Di saltare Le classi sociali Cioè lui aveva Era molto bravo A fare il meccanico Infatti gli succede Un evento fortunato Ma perché lui è molto bravo E Risolve un problema Meccanico A un signore Facoltoso Delle nuove generazioni Di Giaffa E così Riceve in dono Un abito Costruito Per lui Un abito Inglese Da cui Il titolo Storia di un abito inglese Di una mucca ebrea E questo abito inglese A righe Con una riga rossa E È il file rouge Di tutto questo libro E La sapienza Narrativa Di Suad È il racconto Dell'abito Come il racconto Della Palestina Perché questo abito Subisce Una diaspora Addirittura Gli dicono Che l'ha rubato Come No È stata rubata La Palestina E allora io È un libro Che ha molti colori È un libro difficile Perché è un libro Pieno di dolore E di Alla fine Hai reso visibile Una storia che era invisibile A te E allora appunto Io ti chiedo Cosa rappresenta L'abito inglese E E cosa E cosa hai voluto Veramente dire Nel racconto Di questo Orfanitudine Che non è neanche italiano Ti piace perché Anche io parlo Parlo volontariamente Inventando le cose L'orfanitudine è Cioè il senso di disagio Del fatto che Tu sei orfana di tutto E quando uno è orfano di tutto Come il tuo papà Vuole veramente Ritornare ad avere Quello che non ha E nei suoi libri Questo c'è Perché Ci sono libri Che raccontano Lei è un architetto E un architetto E crea anche un mosaico Di narrazioni Perché è un architetto E ci sono tante case Nel tema delle case E dell'aperta È un tema fondamentale Allora in questo libro Che ha mille toni Che poi arriva anche A una fatica Che poi arriva anche A una speranza Ecco Hai voluto che ci fosse La speranza In questo racconto Certo Senza speranza Non possiamo Vivere Anche Io sempre Dico Che anche In Palestina Palestina L'unica Paese nel mondo Che è occupata Oggi Ma sappiamo bene Che tutte le occupazioni Nel mondo Finiscono Non c'è un'occupazione Che è durata Tutto il tempo Ma vorrei dire qualcosa Dall'architetto Perché forse la gente Non conoscono Che io sono diventata Una scrittrice Per caso Per caso Per caso Il racconto è bellissimo Questo racconto Sì sì Perché devo dire Quando ero bambina Ho avuto questa voglia Di parlare Sempre 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 La mia mamma dice Ma vai a fare un Avocado Perché se tu fai Avocado Lawyer E la giuria Sono stanca da voi E tu vinci tutto Il processo Sì Io ho piaciuto molto La natura Piaciuto molto L'animale E il mio papà Ha detto Vai a fare Environmental Vai a fare Agricoltura Qualcosa Ma vorrei dirti L'unica cosa Che non Mai Mai Pensato Da essere Scrittrice Sai perché? Perché sono dislessica Davvero Sono dislessica Ho avuto problemi Di leggere Specialmente Il latino E l'inglese Tutte queste lingue E non ho mai pensato Di essere scrittrice E così Io ho studiato Architettura Anche pensando Forse volevo studiare Agricoltura E ho fatto un sbaglio Con le parole E sono andata Alla scuola Di architettura Questa è la sua Ironia Sì sì Perché per fortuna Si salva Tutta la mia vita Un accident Dopo l'altro Penso E così E così Dell'anni Quando Sharon Rioccupato Ramallah Ha avuto una suocera Di 92 anni E Normalmente Lei Viva da sola E io vivo da sola Con il mio marito Grazie a Dio Che lei viva da sola E durante Durante l'occupazione E ho pensato Non so Devo essere umani Prende il tuo suocera Di vivere con me E È Arrivata la mia suocera E c'era una guerra civile Civile dentro la casa Io sempre dico C'erano due guerre Due occupazioni Una Da Israele Un'altra Da mia suocera È cominciato Di scrivere Corti E-mail Per gli amici E così Questi E-mail Sono arrivati In Italia Da un'amica La mia amica Luisa Morgantini Mandato a Feltrinelli E Ho ricevuto Una telefonata Da Feltrinelli Da un persona Si chiama Alberto Rolò E lui dice Cioè vogliamo tutti diritti Ma ha detto Quali diritti Diritti palestinesi Ma quali diritti Io ho saputo niente Dalla scrivere Davvero E dopo di che Ha detto Scusami ma Chi è? Lui ha detto Sono Alberto da Feltrinelli Ma io ho saputo niente Da Feltrinelli Ho pensato forse Un paese in Africa Un paese Quello Ma ha detto Ok va bene E così Io ho diventato Una scrittrice Per caso Con Sharon E mia suocera Si tradotto In venti lingue Vincitore di premi In termini di legge Comunque per caso Ma sai perché Perché io ho pensato Davvero Davvero Non sono scherzando Ho pensato Di essere Se tu vuoi Essere scrittrice Deve avere Una lingua Molto alta Deve avere Tutte questo Dictionary Di scenario Tutto l'altro Ma non ho capito Che La persona Che racconta Le storie Perché io Sempre volevo Essere Hakawati Hakawati significa Racconta la storia In arabo Ma io Non ho mai pensato Che la persona Che racconta Le storie Posso scrivere La storia E così Per me Quando scrivo Faccio il disegno Prima Come un architetto Per esempio Quando ho scritto Questo libro Ho fatto Ho fatto una parabola Così E questa parte Dal parabola Prima Dal guerra 48 E così Il metà Il prima Metà Del libro Una vita Bellissima A Jaffa Vediamo Tutte la Jaffa Vediamo Tutte la gente Che lavorano Il caffè Il ristorante È una città Molto 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 vivace Ma anche abbiamo Questi due ragazzi Subhi e Shams Sono innamorati E lui Lavora 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 Per sposarsi Questa donna E per lui Questo vestito Inglese Era molto importante Questo ricco Commerciante Regalato questo Durante Luglio Era un vestito Inglese Era molto molto Caldo a Jaffa E lui Metto questo Per 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 Shams E questa è la storia D'amore E qui c'è Il festival C'era in Palestina In Jaffa Un festival Si chiama Robin E quasi 50.000 persone Che arrivano a Jaffa Per questo Questa era 47 La guerra 48 E la seconda Parte dal libro Una scesa Cosa succede Sul Palestina Il palestinese Come abbiamo Perso tutto Infatti In un'intervista Che mi è piaciuta tanto Tu Rilasci Ci dici questo Il problema Di noi palestinesi E' che il mondo Non ci vede Ma soprattutto Non vede Non conosce Questa storia Vuoi raccontare Cosa è successo Nel 48 Sì 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 Io dico sempre Se è Ok il 48 Era una tragedia Per noi Si chiama Nakba Nakba in arabe Significa Catastrofi E questa era la nostra Catastrofi Perché L'israeliano Gli israeliani Hanno Detto Che sono Arrivati In una Terra Vuota Ma Non è vero Non era Vuota Hanno creato Israele Sopra Palestina Per Ricriare L'estato Israele Hanno Cacciato 90% Dalle persone Milioni di persone Siamo stati Cacciati E per me Perché Io Penso Che la gente In Europa In America Non capiscono Che succede In 48 E per capire Il problema Tra noi Gli israeliani Dobbiamo capire Questo momento Che per creare Israele Come Francia Decide di fare Una paese francese In Italia E cacciano tutti Gli italiani Ma come fai Una paese francese Qui Senza Distruttere La vita Dalle italiane E questa è la storia nostra Io penso Giustamente Che Gli europei Dopo La guerra Seconda E tutta La tragedia Che succede Con il comunità Ebrea In Italia In Germania In tutta Europa Hanno Questa simpatia Giustamente Perché la cosa Che succede Terribile E per questo Non mai 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 Hanno visto O pensato Che cosa succede Sulla Palestina Ma la cosa più Per me Le più Peggio Perché Palestina Era sotto Il Britannici Britannici Ma sai Ma sai Che il Britannici Anche L'americani Hanno chiuso La loro frontiere Per tutti Il profughi Ebrei Non hanno Permetto Una persona Entrare In Britannica Mentre Hanno permesso Tutti Per arrivare In Palestina Ma Ok Accettato Il profughi Sono sempre Dico Abbiamo Una responsabilità Come Umani Tutti Noi Ma Non possiamo Cambiare La Le Britannici Hanno Regalato Palestina Per loro E siamo stati Cacciati Questo è Il problema E per me Quarantotto Questo libro Era molto Forte E molto Triste Per scriverlo Perché Ho passato Molti anni Senza dire Questa storia Ma Alla fine Ho pensato Il momento Giusto Arrivato E poi Se mi permetti È Più forte Di un saggio Cioè È un romanzo E quindi Il messaggio Arriva più forte Perché Arriva più umano E quindi Arriva diretto Anche la scelta Nei libri Di Suad Ci sono C'è un'umanità Piccola E grandissima Che dove ci sono Appunto Le prostitute La gente Del porto I poveri I disadattati È interessante Questa scelta È una scelta Proprio di margine Che quindi È anche una scelta Di centro Ritornando Al discorso Di prima Sì Posso condividere Che c'è una Gerarchia Dei sensi Di colpa Quindi Nel caso Degli ebrei Capisco Quello che tu Dici Ma È anche perché Poi i libri Di Suad Sono libri Politici Perché la politica È vita Se è verità Ma tornando Al libro È un libro scritto in inglese Tradotto magnificamente Devo dire Perché è brava la tua traduttrice Sonia Folini Ma Mi piace che ci siano delle intersezioni Le intersezioni sono in arabo E c'è una bella scelta Quello di avere Tenuto le parole araba Allora C'è una parola Che mi piace molto E che Vorrei che tu Spiegassi A me piace molto Questa parola Che è Mushtak Mushtak Sì Mi piace molto Perché è il senso Di questo libro È il senso anche Della verità Storica Di una palestinese Così di cuore Come sua Cosa vuol dire Mushtak Sì Mushtak Per quanto ti manchi Una persona Ti manchi Il tuo casa Ti manchi Il giardino Ti manchi Il paese Ti manchi I vicini Ma La cosa che la gente Io dico sempre Io non scrivo Politica direttamente Perché per me La guerra Che significa La guerra Non sono interessata Da due Armi Che fanno La guerra Sono interessata Da Come cambiando La vita Della persona Normale E questa Più importante Come soffrano La gente Della guerra Per questo Dobbiamo Smettere Avere Guerra In tutto il mondo Per me L'importanza Di Quando sei Una profuga Nata 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 in Damasco Crosciuta In Giordania Studiato Fuori Palestina Sempre fuori Palestina Ma la gente Mancano Io mi ricordo Abbiamo fatto Un errore Perché non dobbiamo Parlare Dalla paese Che significa Che abbiamo Perso Un paese Ma niente Io penso niente Ma se io dico Che abbiamo perso la nostra casa Abbiamo perso la nostra giardino Abbiamo perso la nostra soggiorno Abbiamo perso il cane Abbiamo perso il piano Il mio padre Ha perso tutti i libri Abbiamo perso i vicini Abbiamo perso il lavoro Abbiamo perso la macchina Abbiamo perso l'ospitale Abbiamo Ma c'è mancanza per tutto Per tutto Per tutto Significa La perdita è grande È grande E tu manchi tutto Manca il mare Manca la terra Manca E così la parola Mishtak Tutta la gente Del diaspora Mancano Mancano Italia Anche se vivono in New York Mancano La loro Paese La loro casa La loro tutto È per questo L'altra cosa Che io metto l'arabo In questa storia Perché se tu arrivi In Palestina Oggi Se tu arrivi in Israele Oggi Non credi Che era una Paese araba 70 anni fa Perché La lingua araba È Cancellata Non c'è un segno In arabo Vorrei Vorrei dirti qualcosa Quando erano I britannici C'erano Tre lingue Officiali L'inglese Che nessuno Parla solo I britannici E l'ebrei Che erano 3% A questo momento 20% Piano piano Sono conosciuti E l'arabo Ma Israele Cinque anni fa Hanno deciso Cancelliamo L'arabo L'arabo Non è una lingua Che è ufficiale Per esempio Quando io Ricevo Il bollettino Dall'elettricità E l'ebreo Io non leggo Libri E per me L'arabo Piano piano In Palestina In Israele Perdiamo tutto Che è arabo E il cibo Non è nostro E questo Non è tutto E per me E metto l'arabo Così Per ricordare Che questa terra Era araba Solo 70 anni Anni fa Applauso E Da Una Da un sentimento Di mancanza E di appartenenza L'appartenenza tua E anche la concretezza Di essere un architetto Che fa Del bene Anche i giovani Perché trovano lavoro Con il tuo centro Perché Spieghiamo Ad Aquileia Che cos'è Il centro Che tu Hai inventato Ok Comincio da questo Anche Quando Crosciuta In Diaspora Il mio papà Sempre parlato Dalle Quattrocento Venti Villaggi Palestinesi Che erano Bulldozer Come Bulldozer In italiano Spianato Spianato Cioè Distrutti Distrutti 420 E questo numero Sempre immaginato Come una bambina Ma come mai hanno distrutto 420 Ok Quando sono arrivata in Palestina L'unica cosa Che volevo fare Io Prima di tutto Visitare tutte queste Villaggi che non esistono Ok Ho fatto una ricerca Ho trovato Che in Palestina Cioè Giordania Anche in Gaza Oggi Abbiamo 40 420 Villaggi Significa Che gli israeliani Hanno distrutto 50% Dalla nostra Paese Ho deciso Ok Forse Sono un'architetta La cosa Che mi piace Fare Salvare Il resto Ma come salvo Io 44 120 Alle Alle fine Ho deciso Di Fare Un centro Si chiama Rewak Or Galleria E in questo centro Facciamo il ristauro Facciamo il ristauro Ma Non come Arche Solo come architetti Facciamo il ristauro Per creare Lavoro Per Lavoro Per Per il giovane In Palestina Perché Sapete Che Abbiamo Un Grande Percentuale Quanto 40 Forse 60% Delle Giovane In Gaza Non hanno Lavoro 40% In Giordania Ho Cominciato Di pensare Forse Il ristauro Da una Communità Da un Palazzo Creare Molto Lavoro Per Il giovane E Da quel momento Noi Siamo 15 architetti Lavoriamo Insieme O NGO Non Non Government Organization Abbiamo 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 Fatto Quasi 130 Centro Culturale In 130 Villaggi Parliamo Lavoriamo Solo In Piccolo Villaggio Non Non Lavoriamo In Ramallah In Jerusalem Tutte queste Città Grande Che hanno Tutto Perché La cultura La musica I libri Non Arrivano In Questi Paesi Piccoli E Alle Fine Abbiamo Deciso Di Fare Questi Centri Culturali Il Maggiore Parte Per Le Donne Il Maggiore Parte Per I Bambini Anche E Poi Abbiamo Deciso Di Fare Ristauro Non Solo Per Un Palazzo In Un Villaggio Abbiamo Deciso Di Fare Tutta La Storia Centro Storico Ma Solo Per La Comunità Significa Facciamo Una Libreria Un Centro Musico Un Playground Per I Bambini E Penso Quando Abbiamo Fatto Questo Legamento Tra Il Lavoro L'employment Con Il Ristauro Ho diventato Un progetto Molto Molto Successful E Sono Contenta Perché Questo Centro Fondato Io In 91 E Taisir La Musicista Fatto Il Primo Pamphlet Per Per Noi Ci Sono Ora 30 Anni Che Abbiamo Questo Centro E Continuiamo A fare Questo Lavoro E Noi Ti Ringraziamo Grazie E' uno Di quegli Esempi Bellissimi Grazie Dove Una persona Come Un Architetto Come Te Sa Far Del Bene Mi Piace Tanto Un bellissimo Esempio Anche Perché Siamo Qui Siamo Ad Aquileia E Certo Mi Mi Piace Molto E Senti Io ti Volevo Chiedere Appunto Se c'è Una Tua Giaffa Del Cuore In Italia Cioè Sì Perché Tu Ti piace Tanto L'Italia Certo La Prima Volta Sono Arrivata In Italia Avuto 18 Anni Ho Pensato Sono Italiano Non So Perché Non ho avuto Niente Blood Italiano Ma Ho sentito A casa Devo dirti Dall'inizio Ma Sì Devo dirti Che io Passo un po' Di tempo A Napoli Per me Non so perché Io ho sempre Pensato Napoli Forse Era Giaffa O Beirut O Alexandria Perché Io devo Dirti È vero Sono palestinese Solo perché C'è un conflitto Grande Che è una Tragedia Umana Ma In realtà Devo dirti Che io Sento Mediterranea Ma si vede Si sente Davvero Di cuore Di sole Brava Guarda Se no Le nonino Non ti avrebbero Intercettato Vero No Io non Sicura Perché tu sai Che il Mediterraneo Abbiamo una lingua C'era una lingua Che parlano tutti i commercianti Che fanno il lavoro Che fanno il business Nel Mediterraneo Parlano una lingua Si chiama Sabra Parte italiana Parte arabe Parte ottomano Parte In tutte le lingue Si chiama Sabra Non lo sapete Sì 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 Anche io non ho saputo Ma io sento questo Io sento a casa In Spagna In Italia In Egitto In Palestina Io penso Purtroppo Che la parte nord Del Mediterraneo Hanno deciso Di essere Guardando nord Non guardando south Capito che Sì ho capito Avete deciso Di guardare Europa Avete Dimenticato Che avete Una storia Lunga Con il Mediterraneo Con noi Anche No non avete Non tutti Sono sicura Che è culturale Non avete Dimenticato I politici Vogliano Dimenticare Noi da questa parte Del mondo Non l'abbiamo Dimenticato Grazie Suadamiri Io sento anche Delle gocce di pioggia Ma volevo dirvi Io chiamerei E chiamerei Sul palco Perché mi piace Una parte Del tuo libro Tante Ma quella Dove ci sono Così La gioia Di Giaffa Prima Della diaspora Con gli aranci È una pagina Bellissima Allora Se viene Sul palco La nostra Lettrice Che è Cinzia Biondi Con la lettura scenica Io chiuderei Questa serata Con questo Mondo colorato Di aranci Sole E amore Perché Perché i protagonisti Non sapevano Che Non si sarebbero amati Come volevano amarsi Quindi Viva la speranza Grazie Suadamiri Grazie a voi Io chiuderei Con questa Bellissima Pagina di gioia Era la prima volta Che vedeva La città Da est Dove si trovavano La maggior parte Delle piantagioni Di arance Il Bayarat Davanti ai suoi occhi Si estendeva Un oceano verde Molto diverso Dall'azzurro Del Mediterraneo A cui era abituato Costellato Da piccole macchie Arancioni In alcuni punti Le palme I cipressi Verde scuro Ostacolavano La vista Altre volte Ne mettevano In risalto La bellezza Come una cornice Subhi Aveva visto L'aranceto Di suo padre E molti altri Ma questo Non aveva paragoni Per vastità E per struttura L'attenzione Maniacale Per ogni singolo Albero Lo lasciava Stupefatto Ma più di tutto Lo impressionavano Le dimensioni E la complessità Del sistema Di irrigazione I canali Seppur asciutti Erano in perfetto ordine Bastava paragonare Il profumo Degli aranceti All'odore Pugente Del Mediterraneo Odore che Sub chi si era convinto Aveva amato Più di ogni altro Finché Non le aveva riempito Naso e polmoni La fragranza Degli agrumi Grazie Grazie Bellissima pagina Grazie Suade Ma ci sono libri Sono libri Allora Esatto I libri Sono lì Tu puoi fare I tuoi dedicaggi Io non so Se ci sono domande Ma è anche una serata Così bella Vuoi chiudere Tu Suade Con un pensiero Su questa Aquileia Sì Certo 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 Ma davvero Ho passato Due giorni Bellissimi Siamo andati Ieri A Trieste E per me Era una città Bellissima Anche per la storia Perché Una città Che Ha tutte Ci sono italiani Ci sono serbi Ci sono chiese È la nostra Giaffa È la nostra Giaffa Ma anche Una città Dalle straniere Mi piace Questa apertura Io davvero Dico sempre Siamo Umani Tutto l'altro Non è importante Per me Non è importante Nazionalità Nazionalità Per me Non è importante Religione La religione È una cosa Molto Molto Personale Ma purtroppo Che I politici Fanno una storia Pugia Da Questo Io sempre dico La conflitto Con Israele Non è una Conflitto Di cultura Non è un Conflitto Di religione Una Parole Sola La nostra Conflitto Con Israele È terra Io Non ha scelto Io dico Per gli israeliani Sai Io voglio Tutta la cosa Che tu vuoi Non meno Non 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 Se tu vuoi Un paese Io voglio Un paese Tu vuoi Una terra Anche io Voglio Dobbiamo Accettare In una Maniera Profonda 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 Se Siamo Uguali Come Umani Come Persone Come persone Solo questo Perché se tu pensi Se Meglio Dall'altri È Cominciata La guerra Io penso Se Siamo Convinti Siamo Uguali Non Sarà Una Guerra Finita È È Solo Questo Dico Io Grazie Tanto E Dici Tanto Grazie A tutti Grazie 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 Di questa Bella Assertà E di questo Italiano Così Di cuore Grazie 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 a tutti Grazie 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 Grazie